Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questa tredicesima lezione di tutorial sulla programmazione in linguaggio CIC++ semplificata per non informatici. Abbiamo visto nella lezione precedente come utilizzare il ciclo FOR, quindi abbiamo iniziato i cicli iterativi e abbiamo visto appunto la struttura FOR classica dove si utilizza in genere la lettera I e si fa il conteggio, quindi l'incremento di questa I e poi può succedere qualche cosa, quindi si parte, si fa l'inizializzazione, quindi sempre FOR I che va da uguale a 0 fino a un valore massimo e si incrementa di 1. Oggi andiamo a vedere invece come poter utilizzare sempre il discorso del ciclo FOR ma in un decremento, quindi utilizziamo ad esempio anziché la I un'altra variabile che chiamiamo CONTA che chiamo CONTA e andiamo a vedere questo esercizio che ci fa vedere un'applicazione pratica di quello che può essere ad esempio un conteggio al contrario, alla rovescia. Allora, vediamo insieme l'esercizio. Allora, intanto aggiusto qua che ci manca un pezzettino. Ok, almeno così si vede tutto l'esercizio. Allora, qui ci chiede scrivi un programma che acquisisca due numeri interi da tastiera e CONTA alla rovescia dal maggiore al minore. Allora, come sempre dobbiamo leggere per bene e cominciare a fare un po' mente locale di quello che ci serve. Allora, intanto sicuramente ci serviranno come variabili due variabili intere, num1 e num2. Dopodiché, cosa devo fare? Ok, devo chiedere il primo numero e acquisirlo, il secondo numero acquisirlo. Dopodiché, conto alla rovescia dal maggiore al minore. Quindi, ho bisogno di avere una variabile che chiamerò maggiore, chiamerò max ad esempio, e una variabile min. E però, che cosa devo fare? Devo fare il confronto, perché questi due numeri, non so se il primo è il maggiore o il minore dei due. Quindi, o se magari sono uguali. Quindi, devo andare a vedere. Intanto, se sono uguali non ha senso di fare il conteggio, perché è il numero stesso. Quindi, la prima cosa che conviene fare è dire, ok, mi levo il pensiero. Se sono uguali, vado nel percorso dove vado alla fine del programma e al massimo stampo che i numeri sono uguali, ma non faccio il discorso del conteggio alla rovescia. Mentre, se sono diversi, quindi nella altra strada del nostro blocco condizionale, quindi se sono diversi, vedrò se uno è maggiore dell'altro. Ad esempio, controllo se num1 è maggiore o uguale, è maggiore o uguale, è maggiore di num2. Se è sì, se è maggiore, allora vuol dire che il valore di max diventerà num1 e il valore di minimo diventerà num2. Allora, andiamo a vederlo dal diagramma di flusso, così si vede anche meglio, senza, cioè, solo le parole, sennò rimane un po' campato per aria come cosa. E ve lo faccio vedere da qua, dove comunque si vede un po' meglio rispetto a quello che è un collato che ha una risoluzione un po' più alta sul sito di Drawio.io, come si legge, insomma, quello. Allora, qui abbiamo detto, chiedo il primo numero, leggo il primo numero, chiedo il secondo numero, leggo il secondo numero, poi controllo se sono uguali. Allora, se sono uguali, stamperò che i numeri sono uguali e vado direttamente alla fine. Se invece non sono uguali, controllerò, ad esempio, se il primo numero è maggiore del secondo. Se è vero, il valore massimo, max, diventerà il numero, il num1 e minimo diventerà il num2. Altrimenti il contrario. Quindi vuol dire che il più grande è num2, quindi massimo diventerà num2 e minimo diventerà num1. Ok, a questo punto che cosa vado a fare? Tenete sempre conto che si potrebbero fare, magari anche risparmiando delle variabili, però se risparmiare delle variabili vuol dire che poi ci si incasina nel fare il programma, conviene utilizzare magari variabili di più e avere bene le idee chiare. Quindi questo discorso che uno diventa al massimo, l'altro diventa al minimo, rimane più chiaro se vengono utilizzate le variabili in questo modo, credo io. Ecco, punto. Dopodiché, a questo punto, ho fatto una strada o l'altra, quello che mi interessa è che il conteggio, quindi io vado a fare, questo è il mio ciclo for, dove ho l'inizializzazione, quindi quello che abbiamo visto l'altra volta, l'altra volta è uguale a 0, qua diventa conta uguale a mass, quindi io devo iniziare a contare da quello più alto a quello più basso, quindi avrò l'inizializzazione di conta uguale a quello più alto. Poi farò il controllo, conta è maggiore o uguale al minimo, il valore minimo? Se è vero, allora stamperò conta, quindi la prima volta stamperò il numero massimo, poi vado a decrementare, quindi questa è la variabile, in questo caso non è di accumulo, ma è di decremento, quindi conta sarà uguale a conta meno 1, dopodiché qua, vado quindi a decrementare, vado a fare il controllo, a stampare, quindi quello che vado a stampare è la variabile conta, perché alla fine era quella che aveva acquisito il valore più alto all'inizio, e finirò fino al valore minimo. Quando conta è minore del valore minimo, quindi il valore minimo lo stampa ancora, quindi stampa dal valore massimo al valore minimo, quando invece scendo ulteriormente è falso, e quindi finisco il mio programma. Andiamo a vedere come diventa a livello di programmazione. Allora, a livello di programmazione il programma è questo qua, Allora, andiamo a vedere, ad esempio, con il primo numero mettiamolo 15, il secondo mettiamo 7, e abbiamo 15, 14, 13, 12, fino al numero 7. Andiamo a vedere invece, se facciamo il primo più piccolo, quindi tipo 2, il secondo, facciamo 9, conta comunque dal 9 al 2, quindi va a riordinare e a prendere appunto la parte giusta. Ora, andiamo ad analizzare, quindi vedete che qua il programma avrà come variabili, la dichiarazione di variabili, quindi num1, num2, max, min e conta. Poi inserisci il primo numero, quindi l'acquisizione dei due numeri, poi il controllo, quindi se num1 è uguale a num2, la stampa, i numeri inseriti sono uguali, quindi proviamo anche questa strada qui, ad esempio mettiamo 4 e 4, e quindi arriva qua, i numeri inseriti sono uguali e poi finisce il programma. Allora, altrimenti, cosa va a fare? Se num1 è maggiore o uguale di num2, abbiamo detto il max diventa num1, quindi in questo caso qui, allora andiamo un attimino di rifare, quindi se noi ad esempio siamo a 10 è il primo e 4 è il secondo, sarò in questa parte qua. Oh, io ho messo maggiore o uguale, ma in realtà dovevo mettere maggiore stretto, non so perché mi è scappato maggiore o uguale, tanto non può essere uguale. Quindi qua 4, quindi farò, cosa vuol dire? Che il massimo diventerà 10, il minimo diventerà 4, e quindi stamperò che cosa? Per conta che va da 10 a 4, stamperò 10, 9, 8 e così via, fino a 4. Se invece abbiamo il caso in cui il primo numero è più piccolo, quindi 3 e poi abbiamo 9, facciamo poco così, allora abbiamo questo caso qua, quindi abbiamo che num2 ha maggiore di num1, infatti il secondo è maggiore del primo e quindi massimo diventerà il secondo e minimo diventerà il primo e poi il conteggio è sempre il discorso, lo stesso. Quindi vedete che il tutto funziona nel modo corretto e spero che sia chiaro questo discorso, quindi anche in questo caso vedete che è comodo avere il discorso del for e può utilizzare la variabile che vogliamo, quindi se vogliamo una variabile che ci evochi meglio quello che stiamo facendo la possiamo chiamare come vogliamo, l'importante è che sia dichiarata e sempre utilizzata ovviamente nello stesso identico modo. E qua abbiamo fatto la stampa della variabile conta. Allora, lo vado a copiare dall'altra parte, così rimane più chiaro e poi vediamo come diventa in C++. Allora, ecco qua il listato per il C++, quindi abbiamo sempre la nostra libreria di scrittura e lettura, poi lo using namespace std per poter scrivere le righe, le istruzioni di Cine e Cauto in modo semplificato, dichiarazione di variabili uguale, poi abbiamo il C out, inserisci il primo numero, qua non sono andata a capo perché così almeno tanto per vedere un po' le cose diverse, se no sapete che per andare a capo bisogna metterci l'handle, questo qui, C in, num1, C in num2, quindi vedete le istruzioni e lettura e scrittura sono decisamente molto più semplici, il resto è tutto uguale, nel senso lì i files e le assegnazioni che sono state fatte sono le stesse e poi, vabbè, il C out finale dove abbiamo il conta, la stampa di conta e poi a capo. Allora, possiamo scriverlo anche in questo modo, ma sappiamo che il C++ ci permette anche, come ci permetteva di incrementare mettendo i++, ci permette anche di decrementare mettendo meno meno, quindi in questo modo qua. Possiamo anche risparmiare qualche spazio, io adesso l'ho scritto molto largo per, mi sembra sempre che con un po' di spazi si capisca meglio, comunque possiamo scriverlo decisamente anche un po' più stretto, usare le variabili o mai diuscole o minuscole, come preferiamo. Comunque, questo conta uguale a conta meno 1 in C++ possiamo scriverlo come conta meno meno, quindi decrementa di 1. Andiamo a vedere, quindi inserisci il primo numero, abbiamo detto il primo caso, proviamo con, non so, sempre il numero più grande e l'altro che è il numero più piccolo, quindi va da 13 a 4 e siamo nel caso, in questo caso, quindi il num1 diventa al massimo, il num2 diventa al minimo e poi stampiamo appunto da massimo a minimo. Invece, nell'altro caso, quindi il primo numero è più piccolo, quindi abbiamo ad esempio 5 e 20, andiamo qua, quindi il massimo diventa il secondo numero, il minimo il primo numero e passiamo sempre il conteggio da 20 a 5, compresi i due. Nel caso in cui invece abbiamo i due numeri uguali, ad esempio 7 e 7, siamo qua, i numeri inseriti sono uguali, quindi stesso identico, ovviamente, esecuzione del programma. Bene, vado a copiare anche questo e poi concludiamo il tutto. Ecco qua, quindi, torniamo al nostro foglio iniziale, qui abbiamo il nostro diagramma di flusso e qua i due programmi a confronto con i due linguaggi. Bene, spero che anche questa lezione vi possa essere d'aiuto, di avervi dato uno spunto su ragionare anche di un altro possibile utilizzo, quindi sempre il discorso di ciò che... Sappiamo solo che se sappiamo a priori il numero delle ripetizioni, che sia il fatto, come in questo caso all'inizio, magari non lo sappiamo, ma nel momento che noi acquisiamo i due numeri, diciamo, prima del for, noi sappiamo già quanto dobbiamo contare dal primo al secondo, quindi tuttora che sono battezzato con l'intervallo, quindi ho un modo di capire quante ripetizioni faccio e ho la possibilità di utilizzare appunto il ciclo for. Quindi, ricordiamoci, il numero di ripetizioni della sequenza noto a priori. Bene, fatemi sapere se è tutto chiaro nei commenti, ci vediamo alla prossima lezione e al prossimo video. Ciao ciao!